Io e il Presidente Federica e la Conferenza delle Regioni stiamo valutando le modalità organizzative per scambiare i vaccini in modo da poter vaccinare i cittadini che ne hanno diritto in Italia e ovviamente non gli stranieri che hanno diritto alla seconda dose per impedire che la necessità di fare la seconda dose possa bloccare una vacanza. È una procedura tecnicamente realizzabile, bisogna solo far quadrare il bilancio dei vaccini o scambiarli tra le Regioni. Adesso poi il Commissario Figliuolo ci darà il suo punto di vista, ma crediamo di poter arrivare a questo risultato, ma dobbiamo arrivarci tutti insieme. Non possono essere iniziative di due Regioni confinanti che decidono da sole, devono essere decisioni prese dal Governo ed eseguite dalle Regioni che ovviamente già stanno studiando le modalità tecniche con le quali fare questo vaccino ai turisti. Ripeto, italiani che hanno diritto al vaccino. Noi rischieremmo di alterare il piano vaccinale nazionale con l'arrivo di turisti da fuori che non sono contemplati e che sono invece contemplati nelle dosi di vaccino che vengono assegnate ad altri paesi. E lo scambio tra paesi secondo noi è un po' troppo complicato da realizzare così velocemente. Grazie.